Viene presentata ufficialmente la campagna abbonamenti della Teramo a spicchi stagione 2023-2024 lo slogan scelto è il posto giusto per te quindi anche una politica verrebbe da dire Stefano di inclusione insomma per far venire più gente possibile a tifare i biancorossi. Questo è il quarto anno ormai che cerchiamo di inventare qualcosa di nuovo per accaparrarci l'interesse dei nostri concittadini e anche quest'anno abbiamo scelto qualcosa che potesse interessarli il posto giusto per te anche perché quest'anno ci ridimensioniamo in qualche modo al punto di vista strutturale perché abbiamo rinunciato all'utilizzo del palasporto di Scapriano per stare qui nella casa della TASP anche perché in qualche modo abbiamo verificato che al momento i numeri sono quelli e quindi restiamo un po' più compatti adesso. Lo slogan è chiaro e direi anche indovinato il posto giusto per te ovvero appunto una politica di inclusione far venire più gente possibile per sostenere i biancorossi. Sì è l'obiettivo nostro, è l'obiettivo come squadra e anche come società di tornare a giocare casa nostra qui al Palacqua Viva e di cercare di portare più persone possibili nella nostra casa. Già c'è uno zoccolo duro che lo scorso anno ci ha seguito fino alla fine del campionato speriamo che questo zoccolo diventi ancora più grande e riusciamo noi in campo a trasportare il pubblico sugli spalti. Tra l'altro primo test amichevole giocato sabato scorso contro Roseto 2020 e si può dire che per essere la prima sgambata coach insomma non dico il palataspera pieno ma quasi. Sì sì c'era un bel colpo d'occhio ci dispiace in parte di non aver dato magari una prestazione all'altezza soprattutto nei primi due quarti perché abbiamo avuto oggettivamente un po' di difficoltà. Piano piano ci siamo un po' sciolti nel terzo nel quarto quarto però ecco il fatto che già in un amichevole già per essere i primi di settembre c'era già quella gente ci fa ben sperare.